E' festa e capodanno, regalami una gioia, non vi ne sto stramando, bellissimo! Buon anno a tutti ragazzi, partiamo proprio col botto, si! Allora, andiamo a fare subito l'unboxing di questo nuovo Ken, bellissimo, freschissimo, tostissimo, io me lo mangerei proprio a morsi. Allora, andiamola a vedere subito nei dettagli, allora ci sta anche lui perché uno di questi andrà su corpo a mtm, quindi ho acquistato un altro della serie a rotelle che conoscete bene, avete visto tante volte. Allora, questo è il Ken della serie Dream Barbie Dreamtopia, un nuovo Ken che è bellissimo, stupendo, ne ho presi due, ne avrei presi qualcuno in più perché volevo vestirlo normalmente, però purtroppo non si può perché poi vi spiegherò il motivo. Comunque, questa è la sua scatola, ve la faccio un attimo vedere. Qui abbiamo l'artwork dei due nuovi Ken, a me ovviamente interessa lui, Barbie Dreamtopia, consigliato dai tre anni in su. E qua abbiamo il suo bellissimo artwork, ma quando cazzo si frisca? Bellissimo, e niente, io adesso uno lo terrò in scatola, questo qua che mi è arrivato un po' ammaccato con la scatola, lo deboxo. E proverò a fare un combo, quindi lo metterò sul corpo di quest'altro friscone. E poi vediamo che cosa succede ragazzi, speriamo vada bene perché come sapete io non è che ho tutta stata in mistichezza, quindi vi ammetto di avere un po' d'ansia e che Dio ci aiuti, quindi ci vediamo fra poco. Si è andato bene, altrimenti mi vedrete piangere e disperare. Restate lì. Ta-da! Eccolo qua! Allora, devo dire che è stato molto più semplice del previsto perché con Ken è molto più semplice, a differenza di Barbie. Quindi me la sono proprio cavata egregiamente. Allora, gli ho cambiato la casacca perché mi piace più questa qua che appartiene al Ken Dreamtopia che può diventare da principe a tritone. Essendo che io lo tengo in versione tritone, io ho messo questa perché come potete notare la sua è insomma a maniche corti, è un po' più misera questa qua. Invece lo rende ancora più frish ed elegante. Il suo viso, ragazzi, è un qualcosa di eccezionale. Cioè, guardate qua. Spero di riuscire a farvelo vedere bene. È un qualcosa di stupendo questo viso. Proprio il viso di Ken, bellissimo. Cioè, guarda qua. Allora, perché ne ho presi due? L'unico difetto di questo Ken è la corona che ha questi cacchio di gancetti qua, vedete? Quindi se uno vuole provare a vestirlo dovete togliere i gancetti ma all'accorrenza tenervi buchi perché io l'ho visto su altri siti che lo avevano appunto tolto i gancetti e aveva questi due buchi antiestetici che a me non piacciono. Ecco perché mi sono limitato a due e l'unico vestito che potete farlo appunto è da principe o al massimo da qualche spot. Però eccolo qua. Vedete? È molto bello. E quindi lo lascerò così la sua capigliatura. Speriamo che Mattel utilizzi questo mold per Ken in versione fashionistas così potrò fare combo e vestirlo senza stacorona. Questo è il suo vestito. I pantaloni mi piacevano quindi li ho lasciati. Anche i suoi stivaletti viola. Quindi che dire? Un inizio d'anno super super frisco. Guardate qua quanto è bello. Io me lo mangerei ma è proprio bello bello bello. Adesso gli voglio mettere un paio di occhiali. Non me ne frega proprio ma per vedere com'è. Bababia! Un adone, un friscone con gli occhiali. Ancora più bello. Wow! È bellissimo! Lo amo! Troppo bello. Vabbè ragazzi è meglio che concludo qui la recensione dandovi appuntamento al prossimo video. E niente se vi piace questo Ken ve lo consiglio altamente. Speriamo che Mattel ne produca altri senza questa corona. Però in tal caso potete prenderlo e farlo sempre su corpo made to move perché ci va alla grande. Io vi saluto, vi do un bacione e ne approfitto per augurarvi buon anno. E come sempre restate lì perché ci vediamo al prossimo video. Sempre se Dio vuole è ovvio. Ciao! Mua! Ciao!